Io sono soddisfatto fino ad ora in generale perché secondo me con questo disegno di legge si è attuata una svolta importante, cioè mettere il focus sulle politiche di prevenzione e non soltanto di repressione. Questo l'abbiamo fatto prevedendo delle misure concrete, organizzative, a cui si debbono attenere l'amministrazione per evitare il rischio corruzione e l'abbiamo fatto anche prevedendo delle ipotesi, una delega per la verità che poi verrà specificata, per delle ipotesi di incompatibilità per prevenire conflitti di interesse. Per quanto riguarda gli arbitrati vi è un dibattito tra i gruppi e il governo sul punto ha rappresentato come propria posizione che si rimetterà a quello che l'Aula deciderà.